La scuola sicura non si chiude con questo slogan, gli studenti delle scuole secondarie di secondo grado sotto la sigla dell'UDS, il comitato degli studenti hanno protestato questa mattina qui a Piazza del Popolo davanti al comune di Avellino per chiedere la ripresa in presenza dell'attività didattica. Avellino è forse in Campania l'unico capoluogo che ha ancora disposto la didattica a distanza per questo tipo di istituti, ma sentiamo direttamente le loro richieste che si sentono di rivolgere alle istituzioni e in particolare al sindaco Gianluca Festa. Il sindaco ha detto che la sua soluzione per un possibile rientro sarebbe fare uno screening su tutti gli studenti e che di conseguenza vorrebbe la collaborazione degli studenti. Quindi ha chiesto a noi, diciamo, di in qualche modo sondare il pensiero degli studenti e portare dei dati, insomma, petizioni, non saprei, dicendo che studente, nome e cognome sarebbe favorevole a uno screening, a un tampone rapido, insomma, per controllare sostanzialmente la sua positività o meno al covid. E di conseguenza in seguito a uno screening, almeno, ovviamente non può mai essere obbligatorio, quindi comunque della maggior parte degli studenti, perlomeno quelli che vengono, insomma, pendolari, si potrebbe fare una riapertura. Screening che lui, insomma, ha detto che sarebbe disposto di raccollarsi come comune, insomma, sostanzialmente. Sicuramente non ci piace l'idea del rinvio di nuovo, però se dice che questa sarà una soluzione, faremo in modo che questa possa, insomma, in qualche modo ci possa trovare una soluzione e che questa possa farci tornare il prima possibile. Ovviamente non siamo contenti di ricevere ancora una volta un dovete aspettare, vediamo, mettere la scuola in secondo piano, però faremo in modo che non sia possibile metterci troppo in secondo piano, diciamo. Lui ha detto che noi ci aggiorneremo sui risultati, insomma, dei nostri sondaggi sui ragazzi per sapere se, appunto, cosa ne pensano dello screening. E una volta, insomma, con i dati, lui ha detto che di conseguenza si procederà con questo screening, quindi non ci ha voluto sostanzialmente dare delle date, nonostante, insomma, una richiesta, ha detto aspetteremo i vostri dati. Mi credete un po' penalizzati rispetto agli altri studenti della campagna, adesso da Avellino le scuole sono, cioè, prevista da didattica a distanza? Sì, molto, anche perché Avellino non è sicuramente una grandissima metropoli, di conseguenza non oso immaginare le organizzazioni che hanno dovuto avere in città, come Napoli o anche come Caserta, che è sicuramente molto più grande, come Salerno, che è molto più grande e anche più estesa come, insomma, come provincia, e noi invece siamo a casa, siamo bloccati a casa e quindi non ci sembra affatto giusto, diciamo, cioè ci sentiamo molto indietro rispetto ad altri, anche perché alla fine, alla fine dell'anno faremo tutti, diciamo, lo stesso tipo di, i ragazzi che sosterranno l'esame di Stato faranno tutti lo stesso tipo di certificazione, lo stesso tipo di esame. Sappiamo bene che Avellino è una città, diciamo, meta di pendolari, sia operai che studenti, sia lavoratori che studenti, per cui aumentare la rete di trasporti, che sia una rete di trasporti pubblica, ramificata su tutto il territorio e che faccia rispettare il distanziamento sociale, è più che mai prioritario per la rientra a scuola, soprattutto in una provincia come quella di Avellino.